Ragazzi buona giornata a tutti, buona settimana a tutti, allora prima cosa a fare ragazzi, io veramente vedo tanta perizia, poi qualcuno mi chiede perché chiedi prima i mi piace, mettete mi piace al video, mettete mi piace al video perché vedo veramente gente che non, o si dimentica o è pigra proprio, dai appena aprite il video mettete mi piace, tanto se mi seguite, mi seguite anche sulla fiducia, poi nel caso lo levate dopo se vi ho fatto schifo il video, però quanto meno, dai, almeno così non vi dimenticate, no? Ok, boh, detto questo, mettete appunto mi piace al video, sotto iscrizione tutti i social, Instagram, soprattutto su Instagram, non so se andrò anche sull'altra piattaforma, quella sapete, non so se inizierò a fare qualcosina lì, anche non so, qualche video breve di extra calcio, queste cose qua, vedremo, vedremo. Detto questo, detto questo ragazzi, allora, 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 io rimango sempre più, ma non sorpreso, cioè purtroppo il tifoso medio italiano, perché poi all'estero non sappiamo come si comportano, sicuramente sotto questo aspetto sono un po' meno polemici, sono sempre più esterefatto dall'ipocrisia e dall'incoerenza, soprattutto, del tifoso medio italiano. Allora, io partirei un attimo, partirei un attimo dagli anti-juventini. Io ho sentito gente dire che si fomenta odio, che ci dicono delle bagianate, si, insomma, incrementa appunto questo astio nei confronti dell'Inter. Allora, e questo da parte degli interisti, perché poi ci sono neapoletani, milanisti, romanisti, anche altri anti-juventini per carità. Allora, a me fa specie, cazzo, a me fa veramente ridere, che voi per nove anni, oh, siete andati avanti con quel cazzo di rigore, di non espulsione data, non data a Pjanic, andate avanti ancora con Ronaldo Iuliano, che quel pareggio non ci avreste superato voi, con quel pareggio là, nel 98. Senza calcolare, senza calcolare, che è l'andata, c'è un rigore non dato su Inzaghi, contro di voi. Ok, quindi, calcolando tutte queste cose qua, calcolando il rigore, l'espulsione data a Pjanic, senza calcolare però che nel primo tempo c'è un, anzi, nel primo tempo c'è un rigore, a fine primo tempo, sullo 0-1 per noi, con un uomo in più, ok? C'è un rigore non dato, se non ricordo male, su Matuidi, o su Iguaina, adesso non mi ricordo, azione abbastanza confusa. Nel secondo tempo non è stato dato un rigore su Matuidi, però queste cose qua, come sull'altra situazione, no? Sul rigore dato a quadrado, sull'altro 3-2 contro di voi. Senza calcolare che è stato espulso, ingiustamente, Betacure, che tutto il secondo tempo l'abbiamo fatto in 10 contro 11. Voi che fate la morale su Ipiangina, è una cosa veramente di... è proprio l'apice dell'ipocrisia, è l'apice dell'incoerenza, cioè voi siete proprio una cosa allucinante. Parlo in questo momento qua degli interisti, ma ripeto, ci sarebbero anche altri antiguentini, i napoletani, lasciamo stare. Ieri, ieri, io ripeto, che per me c'era il fallo di Martinez e la retroattività sembra che qui funzioni solo con noi, solo con noi. A noi c'è nulla in gol, anche se il fallo arriva nella nostra area di rigore, praticamente. Cioè nulla in gol, se il fallo è avvenuto nella partita precedente, tra un po'. A loro no, il rigore per me su Osime non c'era, perché quei rigori là in Europa non li danno mai, o comunque raramente. Per chi ha visto la Premieri, ha visto falli a destra, a sinistra, cioè il fallo che ha fatto il terzino Guardiol, ok? Che è il difensore centrale, però Guardiola lo mette terzino sinistro. Qui in Italia sarebbe stato espulso quel giocatore là, lì è stato munito. Basti vedere, l'espulsione è data al giocatore Sassuolo, ok? Che è brutta ed è espulsione, però vi fa capire il metro di giudizio diverso che c'è tra due paesi che giocano nelle stesse competizioni internazionali. Anche là bisognerebbe, secondo me, uniformare il metro di giudizio, oltre che i calendari e tante altre cose. Ma vabbè. Cioè, io veramente, interisti che dicono che, allora, tralasciando tutto sport, che vabbè, allora, non c'è un giornale obiettivo. Non c'è un giornale, tutti i giornalisti, tutti i giornalisti, che tra l'altro, anche quelli, come vi dico sempre, che c'è sta tutela nei confronti di Allegri, il giornalista non dovrebbe neanche dire la propria opinione. Il giornalista dovrebbe solo informare. Il giornalista è nato per informare la gente, non per condizionare la testa delle persone. Per questo è nato il giornalista. E tanti che si sono messi qui su YouTube, tra l'altro, approfittano del cognome che hanno, ok? O del nome che hanno, per condizionare il pensiero delle persone, dei più giovani soprattutto. Parlo soprattutto sotto l'aspetto Juventus per andare pro Allegri. Faccio un esempio. Questo è sbagliatissimo. Però tornando a noi, ragazzi, io veramente non posso, non posso vedere e sentire ste cose da chi ci ha rotto il cazzo, ci rompe il cazzo da anni, 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 con gli arbitri, gli aiutini, Farsopoli, e questo, e l'altro, e quell'altro. Avete vinto 3-0 contro il Napoli, basta, finisce lì. Perché so, vedete, dà fastidio, perché sono d'accordo con l'interista quando dice, sì, però gli episodi, al nostro favore, al nostro sfavore, scusate, non vengono menzionati, perché è quello che succede anche con noi. Molto di più con noi. Quando noi vincevamo gli scudetti, dominavamo in Italia, noi avevamo all'anno più sfavori arbitrali che favori, e venivano evidenziati solo i favori arbitrali, perché A, vincevamo, anche quando avevamo torte arbitrali, e B, perché siamo la Juventus, perché diamo fastidio, perché siamo la squadra più vincente in Serie A, nel campionato italiano. Lasciamo stare la Champions, ma in Italia siamo la squadra più vincente, diamo fastidio per quello. Mentre da altre parti, però, chi vince tanto viene portato sul palmo di mano, perché può portare i trofei internazionali non solo alla propria squadra, ma all'intero paese, perché così si ragiona in Germania, così si ragiona in Spagna, così si ragiona in Inghilterra. Qui in Italia, invece, si è fatta sempre la lotta alla Juventus per indebolirla, ma facendo così si è indebolito tutto il movimento calcistico italiano. In proporzione agli altri campionati, vabbè. Comunque, veramente, l'incoerenza dell'Interista in questo caso è pazzesca, è pazzesca. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Le morali, fomentate odio. Ragazzi, io veramente, se voi guardate i video di quando vincevano gli scuoletti, quante volte ho fatto le rotte contro gli antiguentini, per l'odio che fomentavano veramente contro di noi. Cioè, noi, noi, andiamo in ogni cazzo di città, in ogni cazzo di... Cioè, io, che sono juventino, no? Non so, vado in stazione a Bologna, ok? E magari perché fa freddo mi metto la sciarpa della Juve, ok? Io, qualche domandina, prima di andare in stazione a Bologna, me la faccio. Perché cosa può succedermi? Come se dovessi andare a Firenze? Come se dovessi andare a Napoli? E voi parlate di odio fomentato nei vostri confronti? Ragazzi, io ripeto, al di là delle guerre interne che abbiamo in questo periodo qua, perché purtroppo abbiamo delle teste di cazzo pure noi, ok? Ma per essere gobbo ci vogliono due palle così. Nella vita di tutti i giorni ci vogliono due palle così. Non è che si tifa... C'è chi tifa Juventus perché vince, perché vinceva, quant'altro, eh? Attenzione, ci sono... Più grande è la tua tifosaria, più occasionali ci sono. Però quelli che sono tifosi da sempre, per essere tifosi nella vita reale, tifosi gobbi, devono avere due palle così perché l'essere gobbo ti può portare problemi anche nella vita privata. E ci sono tante dimostrazioni. E voi fate la morale. Voi parlate di odio fomentato. Si vede che non siete gobbi, per fortuna nostra. E per fortuna nostra noi non siamo interisti. Vabbè, al di là di qualcun altro che poi... Mi paragonate a certi youtuber. Io quando mai ho detto ho fatto video con forza Inter, con forza Napoli, con forza Atalanta, con forza... Quando mai? Io vi parlo di calcio, ragazzi. A livello... A 360 gradi, a livello tattico. Io vi dico le mie... La mia apatia ve la espongo assolutamente. Vi ho detto anche che a volte ho esagerato pure io. Cioè, sono andato nell'estremo opposto contro Allegri e continuerò a farlo. Perché è rimasto e per me è una sciagura per il nostro entusiasmo la permanenza di Allegri. Ve lo ripeto. Ma paragonarmi con certi youtuber significa essere in mala fede, non capire un cazzo di me, che io non faccio il personaggio. Io non faccio il personaggio, io sono così. Io esprimo i miei sentimenti in quel momento là. Andatevi a vedere i video di 5-6 anni fa. Le cose cambiano. Ma non solo per i risultati, però è una questione proprio di sentirsi sotto scacco di un tesserato. E basta. Io ripeto, chi mi paragona a certi youtuber è in mala fede e ha una testa di cazzo. Basta. Ne ho bannati sotto il mio ultimo video. Adesso arriviamo anche là. Ne ho bannati. Carissimi giuventini, giuventini del cazzo. Perché non siete giuventini voi. Non siete gobbi. Non siete gobbi. Siete testi di cazzo e basta. Perché per voi bisogna esultare il vero tifoso brutte merde. Il vero tifoso non è quello che esulta sempre a prescindere al 93esimo. Il vero tifoso è quello che dimostra i sentimenti che prova in quel momento là. Punto. E voi dite queste cose qua perché ci sono purtroppo altri youtuber o altri influencer del cazzo, coglioni, che vi mettono in testa queste robe qua. Che chi non esulta al 93esimo qua non è il tifoso. Alcuni lo dicono direttamente. Altri sono talmente viri e viscidi che lo dicono indirettamente. Questa è la verità. E voi siete altrettanto viscidi. Stronzi. Perché non sapete la storia di ognuno di noi da tifoso. Che qua c'è gente veramente che si è fatta il culo. Non a livello ovviamente magari di stadio che tanto rispetto per chi è andato allo stadio in trasferta, in casa in trasferta. Ma anche a livello di vita privata, nelle strade, a scuola, al lavoro. Ma chi cazzo siete a pregiudicare? Brute merde. Chi cazzo siete? Arriviamo noi adesso. I tifosi giuventini. Che voi di giuventino non avete neanche il buco del culo. Voi di giuventino non avete un cazzo. Dopo ieri devo sentirmi dire, complotti, ecco l'aiutino, è gravina, è questo, è l'altro, stanno favorendo l'Inter. Voi, voi, quando torneremo a vincere, non avrete il diritto di lamentarvi degli anti-guventini. Voi. Perché state facendo le stesse cose che fanno loro. E voi tirerete fuori la giustificazione. Eh, ma è diverso. È diverso il cazzo, è diverso. Perché loro possono dire la stessa cosa di noi. Allora, giudicare l'arbitro ci sta. Criticare l'arbitraggio ci sta. Volere, diciamo, lo stop di un arbitro perché sbaglia ci sta. Non sto dicendo che non ci sta a lamentarsi di un arbitraggio. Ma è il creare, è il dire che l'arbitraggio sarà, l'arbitraggio è stato in una direzione per quel motivo o l'altro motivo. Che contro il Napoli vedrete che daranno dei vantaggi al Napoli per far sì di compensare i torti avuti contro l'Inter. Tutte queste robe qua mi ricordano gli anti-juventini quando vincevamo noi. Io queste robe qua, io veramente mi dissocio queste cose qua. Non è per fare il buonista del cazzo. No. È per fare il gobbo. Punto. Perché poi non potete fare... Io ripeto, è facile fare i forti quando si vince. È facile fare le morali quando si vince. Quando si vince è facile dire, eh, voi vi lamentate gli arbitri, l'arbitro è l'arbitro di chi non vince mai o dei perdenti. Come diceva Buffon, no? È facile. O è facile quando magari sei sotto i tanti punti, adesso che sei a meno due dell'Inter, sto vedendo la provincialità anche di molti della nostra tifoseria. E non va bene. E non va bene perché vi comportate nella stessa, medesima maniera di chi criticate da sempre. Punto. Incoerenti loro e incoerenti voi. Tra le difese spudorate ad Allegri, tra l'attaccare... Cioè, quando segna la Juventus al 93esimo, l'allegriano, cioè, non è che va a sfottere l'anti-juventino e non è che gode e dice, eh, tu speravi, eh, invece hai preso l'unculato... No. Cos'è che fa l'allegriano? Va al 93esimo a scrivere e a rompere il cazzo a chi non la pensa come lui e a chi vuole la cacciata di Allegri. Cioè, pensate come cazzo siete messi. Pensate come stracazzo siete messi. E sono gli stessi, molto probabilmente, che poi fanno tutti i discorsi di complotti, giustificazioni, alibi, stelle cose qua. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buon inizio di settimana a tutti, buona giornata a tutti, sempre e comunque, fino alla fine, forza Juventus, ma forza Juventus veramente, non sta provincialità di merda, ok? Forza Juventus e non forza Allegri. Io non la chiamo Allegrentus come fa qualcun altro che poi mi paragonate a certa gente. Io non la chiamo Allegrentus. Io la chiamo Juventus, che è sotto scacco di Allegri, però. Questo sì. Questo sì. Noi tifosi siamo sotto scacco, noi veri tifosi siamo... Perché voi avete dato patente di tifo e le continuate a dare e le do pure io. Io mi abbasso al vostro livello, ma divento più pezzo di merda se mi abbasso al vostro livello. Fidatevi, fidatevi, ok? Bene. Buona giornata a tutti, ragazzi. Buona giornata a tutti. E sempre e comunque, fino alla fine.